Al che il tizio le fa, perché non accarezzi anche le mie, visto che ora mi tocca inseguirlo? Salute. Ha un lavoro ben riuscito. Già. Pensi di unirti a noi, tesoro? Sì. Sì. La mappa lo dimostra. Drake non si è trattenuto nelle Indie orientali per sei mesi. Le ha passate ed è andato in Arabia. Bene. E qui si fa interessante. Vedete questa? Questa è la firma di John Dee. E chi è John Dee? John Dee? Uno dei consiglieri più fidati della regina Elisabetta, lo sanno tutti. Sì, sì, era un grande matematico e geografo, molto avanti per i tempi. Probabilmente l'ha inventato lui quello. Assai dedito all'occulto, intendo agli aspetti più cupi e... Già, firmava ogni lettera alla regina con questo simbolo, per dire che era i suoi occhi. L'origine è di 007, vedete, 007. Non proprio pertinente. Quindi fu John Dee a mandare Drake in Arabia? Così sembra. Dee ed Elisabetta. E Walsingham. Ok, ma a che scopo? Domanda da un milione di dollari. Ed è qui che arriva T.I. Lawrence. Il quale, prima di diventare Lawrence d'Arabia... Gran film. ...era un archeologo. Sin da piccolo ero ossessionato dalla storia da ogni cosa riguardasse i cavalieri e le crociate. Viaggiò ovunque, documentò ogni sito delle crociate che riuscì a trovare. È tutto qui. Ok, ragazzo, credo di essermi perso. Questo che cavolo c'entra con Drake? Ora ci arrivo. Dopo la guerra, Lawrence disse che se mai fosse tornato in Arabia, lo avrebbe fatto per cercare ciò che chiamava l'Atlantide del deserto. Una leggenda citata in svariate fonti, con nomi differenti. Ubar, il ram dei pilastri, la città di Ottone. Ma la storia è sempre la stessa. Oh, una città di enormi ricchezze, distrutta da Dio per la sua arroganza e inghiottita per sempre dal deserto del Rubal Kali. Proprio qui. Mi piace quella parte sulle enormi ricchezze. E per te John Dee e la regina mandarono Drake a cercare questo? Certo. Ma soprattutto è ciò che sta cercando Marlow. Ok, ma se Drake fosse stato mandato dalla regina a cercare questo posto, perché questa segretezza? Dico, sembra aver fatto di tutto per tenere nascosta ogni sua scoperta, persino a sua maestà. Non lo so. Scusa, non ho capito. No, aspetta un attimo. Nel caso non ricordassi, l'ultima volta che siamo andati in capo al mondo a cercare una città perduta, non è andato tutto liscio. Sì, ma questa volta siamo in vantaggio. Vedi, Drake aveva solo metà degli indizi. Lawrence, l'altra metà. Noi entrambe. E Marlow non ha niente. C'è solo un problema. Il deserto del Rubalcali, mille chilometri di estensione. Persino i Beduini lo evitano. E se anche sapessimo dov'è, e non lo sappiamo, moriremmo prima di farcela. E, aspetta, vedete questi simboli? Sì, sembra scrittura Sabea. È scrittura Sabea. Esatto. I crociati cercavano la stessa città perduta, mille anni fa. Ma di tutti i siti documentati da Lawrence, solo due presentano questi simboli. Uno in Siria, l'altro in Francia. Oh! No, voi due andate in Siria. Noi in Francia. Se seguiamo gli indizi, troviamo la città perduta di Lawrence. Ne sono certo. E a quel punto, come attraverseremo mille chilometri di lande impenetrabili? Beh, è al centro del deserto. Per cui, tecnicamente, sono 500 chilometri. Non lo so, troveremo un modo. Improvviseremo il momento, giusto? Esatto. Che ne dite? Che diavolo. Facciamolo. Cavolo. Come reggevi questa pozza? Beh, ti ci abito. Come a tutto. Che diavolo è questo? Non dirlo. Beh, a quanto pare proseguiremo a piedi. Cosa? Pensaci tu a trovare una cazzo di giungla nel mezzo della Francia. Beh, di certo questa è la direzione giusta. Ma Chateau deve essere per di qua. Non è lontano. Forza. Già. Non è lontano? Con te potrebbe voler dire 100 metri come 30 chilometri. Come quando ci hai fatti perdere in Peru. Vogliamo davvero parlare del Peru? Non ce l'avrai ancora con me, vero? Avevo 15 anni, Sally. Avrei dovuto capire che con te sarai finito in galera in un anno. Eri già sulla buona strada anche da solo, se ricordi. Andiamo, di qua. Eccolo lì. Come negli appunti di Lawrence. Devi avere più fiducia in me, Sally. Anche se questo burrone sulla mappa non c'era, credo. Devono averlo aggiunto dopo. Ok. Cerchiamo un altro modo per passare. Ehi, è un flauto di pan. Di qua. E stai attento. Non lo so, ragazzo. Sicuro sia il posto giusto. Non pare antico quanto il castello di un crociato. Mi sembra più del rinascimento. Non hai ricominciato a leggere i miei appunti, eh, Sally? Lawrence dice che il castello originario era dell'undicesimo secolo. Il resto venne aggiunto dopo. Oh, non pare sicurissimo. Guarda, Sally, la tua prima auto. Oh, diavolo. È un Hoborn 1927. Già. E questo cos'è, maestra? Arte da giardino. Un po' pacchiano. Lord Godfrey, proprietario del castello, tornò dalle crociate nel dodicesimo secolo. Secondo Lawrence, quel che resta del castello originario sono il mastio quadrato e i giardini. Se Godfrey tornò dall'Arabia con oggetti segreti, è lì che li troveremo. Proviamo qui. Non si apre? No, da qui non si entra. Forse posso arrampicarmi fino a quel buco. Penso di sì. Fammi indovinare. Tu resti lì a fumarti un sidero? Chiaro. Ok, ma non dar fuoco al castello. E la finestra sopra di te? Non voglio tagliarmi. Ottimo, bravo, ragazzo. Riscendo subito. E io ti aspetto. Ragazzo, qua su c'è la catena. Ok, stai indietro. Sparo al lucchetto. Mi raccomando, non fare troppi danni. Ho detto lucchetto. Grazie a tutti. No. Ok. Ok, stai indietro. Sì. Ci siamo? Ok, dobbiamo attraversare la villa fino ai giardini Là troveremo il vecchio mastio Oh cavolo, guarda che posto No, non si apre, c'è la strada, maledetta trave di mezzo Troviamo un modo per fare leva Pensi di arrivarci? Ci provo Ehi, aiutami a sollevarlo Ecco fatto, dovrebbe andare Stai attento lassù, qui è tutto marcio, cazzo Questi candelabri sembrano legati a un sistema di carrucole Già, era così se li abbassavano per pulirle Ehi, guarda, lì c'è una specie di meccanismo Ho un'idea Ah ah, perfetto Già Ehi, ma sei matto? Quell'affare verrà giù da un momento all'altro Bene, ci siamo Ottimo Fatto Ecco, sono entrato Ma la domanda è dove? È un carretto dei pop-corn Ok, cerchiamo un modo per raggiungere la torre Ah, perfetto Ah 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 Ehi, Nate. Una torre quadrata. Sembra antica. Già. Corrisponde a quella del diario di Lawrence. Deve essere quella. Bene. Grazie. Da qui forse si passa. Già. Sì. Forza. Ci sono. Aspetto! Wow. Grazie. Ehi, Nate. Non è lo stesso simbolo che c'era anche sulla torre? Sì. Significherà qualcosa, no? Forse un passaggio segreto? In un cammino. Un po' scontato, non ti pare? Troppo semplice. Ehi, guarda queste armature. Aspetta. Lawrence aveva un appunto a riguardo. Sì. Qui, vedi? Quattro cavalieri. Con ascia, scudo, spada e stella del mattino. Come quelli in questa stanza. Forse ogni cavaliere deve essere rivolto nella giusta direzione. Già, ma qual è quello giusto? Già, ma qual è quello giusto? Deve esserci uno schema preciso. Un ordine. Ma qual è? Quattro cavalieri deve essere rivolto. Quattro, non esero. Quattro, non esero. Quattro, non esero. Come, guarda. Quattro, non esero. Quattro, non esero. Bene, bene. Un passaggio segreto. Ok. Io spingo, tu tiri. Al tre, ok? Aspetta. Uno, due, tiro o uno, due, tre, tiro? Tire, basta. Ok. Nate! Ehi, stai bene? Sì. Sì, vivrò. Di certo su non posso tornare. Andrò da questa parte. Aspettami dall'altra parte. Va bene. Stai attento laggiù. Ok. Spero ci sia un'altra uscita. Che è questo rumore? Forse riesco da qui. Ok. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, grazie a Dio. Buonoscita. Va bene, dovrei riuscire a salire da lì. Uno scherzo. Oh, merda. Sono qui intorno. Trovateli! Devo avvertire Sally. Oh, grazie. 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 Oh. Oh, oh, oh. Sì Prendiamo questa Proprio quella che mi serviva Grazie per la gara, ragazzino Bene Un regalino per te Scappa Non l'avevo vista Ehi, di qua Andiamo Sercito Già, deve essere arrivato l'autobus Avanti, figli di puttana Non l'avranno fatto a trovarci Buon averci seguiti È l'unica Sì 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 Ecco la torre Dobbiamo riuscire a entrare Va bene Ecco qua Ecco qua Sì 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 Ehi Guarda qua Ma che diavolo È un uomo di Talbot Era Ma è impossibile, sono appena arrivati Sì Ma che gli sarà successo? Non ne ho idea Ma ti assicuro che non mi piace Ehi Guarda le piastrelle Sono caratteri, sapevi Io sto qui, così evito di premere qualcosa per sbaglio Bella idea Lawrence ha scritto niente al riguardo Ora controllo Forse bisogna premerle in un certo ordine 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 Forse bisogno premerle in un certo ordine Grazie bail Wow, sembrerebbe una specie di laboratorio. Ehi, serve più luce, Sally. Ecco. Sembra il laboratorio di un alchimista. Aspetta un attimo. Questo posto non ti ricorda niente. Sì, il nascondiglio da breviti di Marlow. Sally. Sally, è il laboratorio di John Dee. Addirittura qua giù, in Francia. Seguendo gli indizi deve essere risalito fino ai crociati. Proprio come Lorenz. Ehi, guarda qua. Ancora l'alfabeto Sabea. Ma che sono questi simboli? A quanto pare lavorava qualcosa. C'è una specie di messaggio scritto in caratteri enochiani. Riesce a decifrarlo. Ci provo. L'altare protegge l'ingresso per l'oltretomba. Beh, ha usato la magia per evocare gli spiriti. Sì, oppure l'altare potrebbe celare un passaggio segreto. Oh. Giusto. Spingi con me. Bene, bene. Ma tu guarda. Vecchio furbone bastardo. Ah, grazie. Ah, ecco qua. Sally serve luce. Sì. Molto meglio. Ma hai considerato l'idea di portarti dietro una scatola di fiammiferi? Sì, ma di che parli? Wow. Sembra volessero tenere qualcosa fuori. Ho dentro. Dammi una mano con questo. Ce l'ho. Ecco qua. Sembra la cripta di famiglia. Il tuo amico Godfrey sarà qua giù, non è vero? Lo spero proprio. Se sapeva qualcosa sull'Atlantide del deserto, se l'hai portato nella tomba. Allora troviamo la tomba. Esatto. Che diavolo è? Un gioco a premio medievale. Sembra complesso. Già. Capito. Ben fatto, ragazzi. Ah. Promette bene. Stai attento. L'argofrio. Proprio lui. Eccolo qua. Reggimi questa. Certo. Guarda. È una sorta di amuleto. C'è una scritta qui. Vuoi proprio farlo qui sull'ancillotto, eh? È in lingua sabea. Beh, deve provenire dallo Yemen antico. Sì. Esattamente dove Francis Drake è sbarcato nel XVI secolo. Sarà il nome di una città? Sì. Di tremila anni fa. Senza il resto dell'iscrizione. Non sappiamo dove cercare. Beh, speriamo che l'altra metà sia in Siria. Sì. E che Cutter e Claw la trovino. No. No. Voilà. No. 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 Grazie.